3.000 le donne licenziate nel 2012 e 360 quelle rimaste a casa da gennaio ad oggi. Numeri da capogiro, cifre che fanno riflettere e mettono in luce le difficoltà che le donne sono costrette a subire all'interno delle fabbriche. È sempre più dura per le donne mantenere il loro posto in azienda quando sono in gravidanza e poi riuscire a coniugare famiglia e lavoro. E la disoccupazione femminile in regione è salita al 7,8%, un dato che supera di molto quella totale che si attesta attorno al 6,6%. La situazione è una situazione critica, chiaramente è critica per tutti ma sembra ancora più critica per le donne perché nel 2012 oltre il 40% degli espursi dal mercato del lavoro erano donne. Tenendo conto che la loro partecipazione al mercato del lavoro è di molto inferiore a quelle degli uomini, capiamo che loro hanno subito più di A degli uomini l'attuale fase di crisi occupazionale. Lavoro povero, impieghi in condizioni critiche, con part time di poche ore a settimana. Queste le situazioni che le donne si trovano ad affrontare una volta entrate nel mercato del lavoro e il 23% delle ragazze sotto i 25 anni non hanno un'occupazione. Le donne hanno una volta che sono fuori delle aziende, dico una parola brutta, espulse e che non c'è più l'azienda perché hanno fatto i licenziamenti, ha più difficoltà delle uomini di ritornare nell'azienda o richiamate nell'azienda perché le lavorazioni delle donne sono un po' particolari, fanno tutte le donne dentro le fabbriche ma chiamano prima gli uomini e dopo le donne. Ma c'è un dato confortante, nel 2012 ci sono 6.000 in più degli uomini, le donne assunte. Voglio, visto che siamo alla festa della donna, lanciare un messaggio positivo per le donne appunto. 36.000 assunzioni in un anno non sono poche, vuol dire che non è che non si assume, si assume ovviamente in proporzione ridotta, però c'è ancora movimento nel mercato del lavoro e per cui bisogna essere anche ottimisti. 37.000 assunzioni in un anno